Due le buste sopra il tavolo del commissario Leonardo Romagnoli, come due erano le cordate in lizza per l'acquisto della Cantarelli, la storica azienda tessile a retina con sede a Terontola in amministrazione straordinaria. Venerdì mattina alle 12 sono infatti scaduti termini per il terzo bando finalizzato alla vendita dell'azienda. Le due cordate interessate l'acquisto sono quella Italo-Bulgara Men's Fashion Group e quella Pratese BLS. Adesso le due proposte saranno valutate e per quella che sarà ritenuta migliore si procederà all'assegnazione provvisoria. Solamente in seguito si darà avvio al confronto con i sindacati. Ad inizio della prossima settimana il commissario Romagnoli potrebbe rendere nota la scelta. Non era indicata nemmeno in questo caso la base d'asta. Le proposte saranno però valutate in base alla credibilità e la solidità del soggetto al piano industriale e dal numero di dipendenti da assumere. Non finisce quindi l'attesa per i lavoratori che ancora restano con il fiato sospeso in attesa di conoscere il proprio futuro. Al momento sono circa 250 i lavoratori di cui la metà in cassa integrazione.